Le 7 e 41 minuti di martedì 9 marzo, buongiorno e bentrovati per l'approfondimento di oggi. Vi portiamo a Prati di Gries per parlarvi dell'insediamento urbano più recente di Bolzano, quello di Drusoest. Un'opportunità per i tanti cittadini che hanno scelto di abitarvi, cittadini che lamentano però anche dei problemi. Sentiamo quali collegandoci in diretta con Roberto Vivarelli. Roberto a te la linea. Buongiorno, buongiorno. Ci troviamo in un quartiere nuovo, possiamo dire quasi un paese, sorto da zero nel giro di soli due anni, dal 2018 al 2020. Siamo vicini all'incrocio tra due delle assi principali del traffico cittadino di Bolzano, via Druso e via Resia. E qui, l'avranno visto tutti quelli che ci passano in macchina, sono sorti come funghi dei grandi palazzi moderni, molto belli, divisi in due un gruppo di edilizia privata, di costruttori privati, un consorzio che lo gestisce a nome di questi costruttori, che si chiama Zera, vicino a un gruppo di case incoperative. Siamo qui per spiegare alla gente come è successo. Insomma, un nuovo paese dentro Bolzano, all'estremo confine in direzione Merano. Gianni Rossato, per esempio, è un consigliere di quartiere di Gries, perché questa è zona Gries, anche se appena al di là della strada inizia via Resia, il quartiere di Don Bosco. Che è successo in due anni qui? È un quartiere che si è sviluppato appunto in due anni, molto bene, ci sono molti aspetti positivi, le case sono ben distanziate, c'è molto verde, come potete notare, e soprattutto assenza di auto in superficie rispetto ad altri quartieri. Chiaro che ci sono anche degli aspetti comunque negativi che bisogna assolutamente evidenziare. Rimanendo comunque agli aspetti positivi, per la parte soprattutto cooperative, ci sono dei concetti, sono nati di concetti di co-housing, quindi di condivisione di spazi comuni interni agli edifici. Gli aspetti negativi, probabilmente il principale è dovuto alla costruzione del futuro Palazzo Ipes. Ecco, parliamo di questo Palazzo Ipes, c'è qui un grande cantiere alle nostre spalle, è l'unico spazio libero, distinto a uno direbbe, beh, verrà fuori una piazza. Invece sorge questo Palazzo Ipes di dieci piani, interamente in legno, un concetto architettonico innovativo. Da quel punto di vista sicuramente sì, chiaramente ci sono appunto delle rimostranze da parte di alcuni residenti qua del quartiere, perché questo Palazzo Ipes non era previsto in origine nel precedente piano urbanistico, e quindi è stato comprato, è stata acquistata la casa, prevedendo al posto del Palazzo Ipes un'area, diciamo, comune, un campetto di sport, un asilo a bassa quota. Il Palazzo Ipes originariamente era previsto verso la pizzeria metro, quindi verso il lato, diciamo, nord della strada. C'è una signora che sta andando a lavorare a portare il bambino all'asilo, come si vive qui signora? Ma io non posso lamentarmi, abbiamo tutto alla mano, negozi, posta, farmacie, i bambini qua possono giocare in sicurezza, perché appunto non ci sono macchine, si può stare abbastanza tranquilli, ovvio, dappertutto poi ci sono i pro e i contro, però io non posso lamentarmi, ecco, sono contenta. Grazie signora, molto gentile, allora intorno alla linea allo studio, ci rivedremo tra qualche minuto, grazie. Grazie Roberto e da Bolzano giriamo la linea a Trento, a Stella Antonucci per il telegiornale. Grazie Giuseppe, buongiorno ai telespettatori anche dalla redazione di Trento. In primo piano la confessione di Benno Neumeyer Kenny, in due distinti interrogatori, ha ammesso di aver ucciso i suoi genitori, i particolari con Luigina Venturelli. Benno Neumeyer ha ammesso le sue responsabilità, ha confessato di aver ucciso entrambi i genitori, nel pomeriggio di quel 4 gennaio in cui sparirono dall'abitazione di Bolzano senza lasciare traccia. Prima il padre Peter, strangolato dopo una breve colluttazione, e ha rientro a casa anche la madre Laura, e poi ne ha buttato i cadaveri nell'Adige. La notizia, attesa da oltre due mesi, è arrivata con un comunicato stampa della Procura. Ma la prima confessione di Benno risale al 7 febbraio scorso, all'indomani del ritrovamento del corpo della madre nel fiume. Dopo il primo traccollo emotivo si è svolto un secondo interrogatorio la scorsa settimana, durato oltre 4 ore, durante il quale Benno avrebbe chiarito agli inquirenti tutti gli elementi di dubbio, che nei prossimi giorni dovranno trovare riscontro nei risultati degli accertamenti tecnici dei RIS. I verbali dei due interrogatori sono stati desecretati, insieme alla richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la capacità di intendere di volere dell'indagato. Nulla trapele invece sul movente, sarà l'elemento portante della perizia psichiatrica. Lasciamo per ora questa tragica pagina di cronaca e passiamo alla situazione dei contagi da coronavirus in Trentino. Un numero di contagi che è ancora sopra la media nazionale. Lucio Fava del Piano. Tasso di contagio in Trentino ancora più alto della media nazionale, 83 i nuovi casi diagnosticati dall'analisi di quasi 900 tamponi, la percentuale di positività è dunque superiore al 9%, quasi due punti in più del valore medio in Italia. 14 tra i nuovi contagiati, 1 su 6, sono bambini e ragazzi in età scolare, altrettanti gli over 70. 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 3 uomini e una donna di età compresa fra i 79 e i 92 anni, che portano il totale da inizio pandemia a quota 1.291. Non si allenta la pressione sugli ospedali, stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 48. Quello totale dei pazienti nei reparti Covid sale di 11 unità a 247, anche in virtù dello scarso numero di dimissioni nella giornata di domenica, che non compensano i 18 nuovi ingressi in ospedale. Prosegue poi la campagna vaccinale, 551 le dosi somministrate nella giornata di domenica, il totale supera così le 53 mila, inclusi oltre 18 mila richiami. E passando all'Alto Adige, la domanda è riaprire o prorogare le attuali misure restrittive che sono in scadenza il 14 marzo. Nonostante il calo di contagi, il biostatistico Marcus Falck, consulente della provincia di Bolzano, sconsiglia di riaprire tutto. Non calano infatti i ricoveri in terapia intensiva e la colpa potrebbe essere della variante inglese. In alternativa al lockdown, Falck propone almeno di introdurre in tutto l'Alto Adige l'obbligo del tampone negativo non più vecchio di 72 ore per ogni spostamento fuori dai confini comunali. E' terremoto all'interno di UPI Palente che gestisce in Trentino la gran parte delle case di riposo. La Presidente Francesca Parorali infatti è stata sfiduciata dal Consiglio di Amministrazione. In una nota, eccola, vedete, la stessa Parorali scrive che la richiesta di dimissioni è arrivata perché ha sostenuto il progetto di riaprire alcune RSA alle visite dei familiari, in contrasto con quanto stabilito nella riunione del 15 febbraio scorso. Sono orgogliosa, aggiunge, di aver concluso questa esperienza con il risultato più bello, quello di aver permesso agli ospiti di incontrare i parenti. E allora vediamo il servizio che racconta proprio della riapertura sperimentale in 5 RSA Trentine e poi le altre notizie. Una carezza attesa da un anno. Maria ha riabbracciato la sorella alla RSA di Cavedine per la prima volta senza barriere né tecnologia a fare da filtro. 5 le strutture gestite da UPI Palente che accolgono i visitatori, cancelli aperti anche a Mori, Nomi, Avio e Povo. L'incontro è riservato a vaccinati o guariti dal Covid. Il direttore Livio Dal Bosco. Una decisione che nasce su basi scientifiche molto solide. La svolta è stata il vaccino. Ha aperto nuove prospettive. Si moltiplicano le panchine rosse contro la violenza in Trentino, nel rione San Martino, a volerla i residenti, gli stessi che l'hanno dipinta insieme al sindaco, analoga iniziativa a Villa Montagna. Nell'anno della pandemia in provincia, i dati degli accessi ai servizi antiviolenza evidenziano una crescita dell'11% rispetto al 2019. Un dato emerso nella giornata internazionale della donna. L'assessora Segnana ricorda i numeri da chiamare. 1-1-2 e 15-22. Calcio, Serie C, pareggio amaro per l'Alto Adige, sui tirolli in trasferta a Mantua nel posticipo della 29esima di campionato. Biancorossi in gol al ventesimo, con Casiraghi che sfrutta l'invito di Fischnaller dalla destra e conclude in rete approfittando di una dormita della difesa. A inizio riprese il solito Fischnaller, lanciato a centrocampo, sorprende il portiere Lombardo, ma il palo gli nega la soddisfazione del raddoppio. Quando i giochi sembrano fatti, l'arbitro concede ai padroni di casa un rigore che Guccione trasforma al novantesimo per il definitivo 1-1. Col pareggio l'Alto Adige, secondo in classifica, sale a 56 punti, la capolista Padova è a quota 61. Torniamo adesso a Prati di Gries, nella zona di espansione edilizia più recente di Bolzano, in diretta ancora Roberto Vivarelli. Sì, allora abbiamo detto che in soli due anni, dal 2018-2020, da zero, qui è nato un grande quartiere, un grande paese. Possiamo dire alla periferia di Bolzano, in direzione Merano, circa 2.200 abitanti. Abbiamo con noi il signor Claudio Valta, che ci espone uno dei problemi che ci sono qui, i parcheggi. Sì, sono stati previsti per ogni appartamento un garage nell'interrato, ma il grosso problema è il visitatore che viene a trovarti, oppure la seconda macchina, perché non si può pensare che con 300 appartamenti dell'edilizia abitativa privata non ci sia almeno un 30% di doppie macchine, che vuol dire circa 100 macchine che sono in giro per la strada e nessuno sa dove mettere. Visto che qui in superficie non si parcheggia normalmente. Qui all'interno di questa zona è stato previsto un parco, che avete già trasmesso, adibito a svago per le sette torri, ma bellissimo, tra parentesi, però il grosso problema è proprio dove mettere le macchine. Cioè bisogna andare al di là della strada, verso il campo di football americano, verso Via Resia. Sì, il grosso problema del football americano è che al di là della strada è un altro bollino di un altro colore. Quindi noi che siamo da questa parte della zona Gries possiamo andare a parcheggiare in Via Fago, ma non possiamo andare a parcheggiare nel parcheggio di fronte casa. Quindi noi vorremmo chiedere al comune o comunque a chi di dovere di realizzare un doppio colore per le zone dei parcheggi limitrofi alle palazzine in modo da permettere a chi viene a trovarti o a chi ha la seconda macchina di poter parcheggiare in sicurezza senza prendere le multe. Grazie. Signor Bruno Mattei, abbiamo detto che i parcheggiochi sono uno dei fiori all'occhiello di questo quartiere. Due parcheggiochi frequentatissimi dai bambini, perché ci sono tante famiglie giovani qui, no? Giusto? Giusto. Noi abbiamo questi parcheggiochi che sono stati costruiti un po' per aggregare appunto anche tutte le torri che ci sono in questo quartiere. ci sono parcheggiochi un po' in tutte le zone, da queste parti, e da noi soprattutto, io parlo della parte più privata in questo momento, vediamo un'aggregazione buona e sana. Oltretutto riusciamo ad avere un tessuto sociale che si sta aggregando nel corso del tempo e quindi iniziamo a conoscere le varie famiglie, cose che in altri contesti noi non abbiamo mai riscontrato. Insomma, ci conosciamo, diciamo, un po' tutti in questo momento nei vari palazzi, torre per torre. Per noi questo è un grande punto di vantaggio e di forza, anche perché vedo forte collaborazione tra tutti i condomini. Insomma, anche se manca quella che una volta era la piazza, diciamo, è il bar, no? Tra di voi comincia a esserci comunque un punto di aggregazione. Sì, vediamo molta collaborazione, abbiamo collaborato bene in questo periodo, nell'ultimo periodo, abbiamo fatto varie manifestazioni, anche piccole di interesse per la collettività, abbiamo organizzato anche pulizie interne, esterne, durante anche tutto il Covid abbiamo fatto delle pulizie, noi, lungo tutta la torre, e quindi abbiamo avuto un'aggregazione forte, presente, e siamo contenti di questo. Insomma, siete contenti di aver investito qui per il futuro, di aver acquistato in questa zona? Sì, direi di sì. Era una zona che nessuno avrebbe mai pensato potesse costruire una situazione del genere, però è tranquillo, diciamo che non c'è il traffico della torre, della via Druso, che normalmente si sente qui, la zona è bella, noi siamo contenti, le case sono di qualità. Siete anche vicino all'ospedale. Siamo anche vicino all'ospedale, passando la ciclabile, sì, effettivamente. Bene, io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi a raccontarci pregi e difetti di questo nuovo quartiere di Bolzano. Da Prati di Gries restituisco la linea allo studio. Rai.it slash TGR Trento è l'indirizzo della nostra home page su cui primeggia la notizia della Francesca Parolari che è stata sfiduciata da Upipa per aver sostenuto il progetto sperimentale di riaprire le visite ai familiari di cinque case di riposo. Questa notizia naturalmente è anche in primo piano su altri quotidiani. Vediamo qua di spalla sull'Adige. Visite nelle RSA. Scoppia il caso. Un terremoto vero e proprio all'interno del mondo delle case di riposo trentine segnato dalla spaccatura nel Consiglio di Amministrazione di Upipa che ha chiesto a Francesca Parolari di dimettersi. Ma l'apertura naturalmente è dedicata al caso Noi Maier con Benno che ha confessato ho ucciso io i miei genitori. Questa notizia chiaramente su tutti i quotidiani nazionali e in particolare sui quotidiani altoatesini. Arrestato per le botte a Trento donna colpita con il mattarello ha impugnato un mattarello lo ha colpito alla testa in pieno volto un cinquantasettenne romeno ha aggredito la sua compagna a cinquantunenne che aveva rifiutato le pesanti e ripetute attenzioni di lui. Questo episodio è avvenuto a Trento fortunatamente la vittima è riuscita a fuggire ha chiamato poi i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. E per quanto riguarda il coronavirus è stato contagiato un Trentino su dieci questo il pesante bilancio di un anno di Covid oltre 4.400 i ricoveri in ospedale. Chiudiamo guardando la prima pagina del Corriere del Trentino oltre al caso della tragedia della famiglia Noi Maier vaccino ai professori Trento bocciata. Il Trentino è in fondo alla classifica italiana per le vaccinazioni professori alle forze armate. Il dato è stato riportato ieri sul sito del Ministero medaglia d'oro invece alla vicina Bolzano. Intanto rimane alta l'attenzione sulla scuola. E poi il focolaio a San Bartolameo la struttura gestita dall'opera universitaria universitario, lo studentato è in quarantena e gli studenti protestano. Ancora siti contaminati Trento Nord la piaga. Sono 47 siti contaminati presenti sul territorio provinciale 9 sono a Trento e 6 a Mezzo Lombardo. Emerge dal rapporto sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia pubblicato da Ispra. E adesso la rassegna stampa dei quotidiani altoatesini. Gli ultimi sviluppi del giallo di Bolzano naturalmente dominano le prime pagine dei quotidiani altoatesini. Andiamo a vedere la prima dell'Alto Adige. Benno ha confessato le ho ammazzati io dopo una lite ha strangolato prima il padre Peter e poi la madre Laura. La difesa nega la premeditazione e punta tutto su raptus e perizia psichiatrica. I genitori gettati nell'Adige dopo aver portato a spalla i cadaveri fino all'auto. Poi perché non ci hanno detto nulla si chiede Carla Perselli la sorella di Laura la procura di Bolzano ha desecretato i verbali dell'interrogatorio soltanto ieri senza avvisarne avvisare dei contenuti nemmeno i familiari delle vittime. In taglio alto svolta sui vaccini da domani si parte con gli ultra 75 anni il vaccino AstraZeneca autorizzato anche per iuver 65. Passiamo adesso al Corriere dell'Alto Adige stessa notizia in apertura ho ucciso mamma e papà ben confessa Peter strangolato per farlo stare zitto la lite sui soldi. Al centro cambiamo argomento parliamo dell'impatto della pandemia sull'economia virus un'impresa su tre teme di chiudere per il 45% fatturato dimezzato la CNA ristori bisogna fare presto e poi in taglio basso si parla di scuola scuola rientro difficile prima di Pasqua verso la proroga delle elezioni a distanza per medie e superiori Dolomiten stesso tema ovviamente in apertura poi di spalla si parla del prolungamento del lockdown nonostante le notizie positive sulle vaccinazioni passiamo adesso alla Tagess Zeitung che in prima pagina oltre alla foto di Benno e alla notizia sulla sua confessione riporta anche le parole dei suoi legali Benno non chiede perdono o pietà dicono i suoi legali chiudiamo infine con il nostro sito all'indirizzo rai.it slash tgr bolzano questo è l'indirizzo apertura dedicata al caso Neumair ma ci sono poi altre notizie che riguardano la pandemia la musica e altre ancora è tutto per la rassegna stampa noi adesso vediamo le previsioni del tempo ci colleghiamo con Enrico Di Muzio di Meteo Trentino buongiorno da Meteo Trentino vediamo subito le temperature registrate questa mattina abbiamo 0 gradi a Trento 1 grado a Bolzano le massime previste sono di 12 gradi a Trento 14 gradi a Bolzano lo zero termico si aggira oggi intorno ai 1300 metri la giornata è prevista inizialmente soleggiata con maggiore nuvolosità a partire dal pomeriggio quando sono previste deboli precipitazioni sparse anche sotto forma localmente di rovesci la quota neve si aggirerà intorno ai 900 1100 metri e da Meteo Trentino e tutto la linea può tornare allo studio è tutto anche per la puntata di oggi non mi resta che darvi appuntamento a domani mattina sempre dalle 7 e 40 domani ci occuperemo delle conseguenze economiche e occupazionali della pandemia nel settore della cultura e dello spettacolo in studio l'attrice Bolzanina Flora Sarubbo che lancerà un appello a nome dei lavoratori dello spettacolo una delle categorie sicuramente più colpite dalla crisi pandemica dalla crisi economica innescata dalla pandemia è veramente tutto grazie per averci seguito buona giornata